Numeri da record per il turismo veneto anche nel 2019. Nel periodo tra gennaio e settembre è stato registrato un nuovo aumento di turisti, più 2,6% negli arrivi e 2,5% nelle presenze rispetto all'anno scorso. La crescita del comparto della prima regione turistica d'Italia dunque non si arresta. I dati, commenta l'assessore al turismo della regione veneto Federico Caner, sono confortanti, positivi e ci dicono che, come nel 2018, siamo in crescita. Dunque, in sostanza, sarà una nuova annata record se da ottobre a dicembre saranno confermati questi dati. È positivo anche il fatto che siano stati premiati a livello nazionale innanzitutto come la regione più amata e più turistica d'Italia. Si conferma quindi la nostra vocazione e la richiesta da parte del turista straniero di venire in Veneto. Per mantenere la leadership nazionale, la regione Veneto ha continuato a investire sul turismo, sfruttando tutte le opportunità a disposizione. Innanzitutto è assolutamente efficiente nell'utilizzo dei fondi comunitari, avendo già avviato una spesa di 487 milioni con 78 bandi.